Finiamo questa settimana con una nuova beauty routine dedicata questa volta alla rosacea e alla dermatite periorale. Le ho messe insieme perché sono cugine fondamentalmente. La diagnosi la farà sempre comunque dermatologo, noi vediamo come prendercene cura, come migliorare un po' certi aspetti per quello che possiamo fare noi da casa da soli. La rosacea viene chiamata anche acne degli adulti e colpisce più frequentemente le donne, però può colpire anche gli uomini e quando lo fa, lo fa in modo importante. Presenta al volto arrossato soprattutto in questa zona, quindi naso e guance, dove potremo avere dei piccoli anche vasi superficiali rotti, quindi delle telengectasie, dove potremo avere delle papule piccoline, quindi dei rilievi eritematosi, ma anche delle piccole cisti o delle pustoline gialle, quindi avremo l'acne rosacea in questo caso. A differenza però dell'acne classica non avremo come doni, punti neri e punti bianchi non sono tipici di questo tipo di pelle, benché comunque risulti essere una pelle untuosa, seborroica, con sicuramente una componente importante di infiammazione, di irritazione, quindi sarà una pelle molto sensibile, molto reattiva, che andrà a reagire anche a stimoli esterni, quindi caldo, freddo, stress, emozioni, determinati cibi andranno a accentuare questa situazione. È una pelle che mal sopporta anche troppe cose sul viso, mal sopporta i lavaggi, mal sopporta le creme, soprattutto quelle pesanti o il trucco. Nella dermatite periorale possiamo non avere l'untuosità, ma sicuramente avremo la componente infiammatoria e quindi una pelle reattiva e sensibile. Abbiamo come caratteristiche, diciamo, delle pustolette intorno alla bocca, ai lati del naso e sulle guance. L'origine della rosacea non è perfettamente conosciuta, sicuramente ci sono delle cause genetiche e ci sono queste componenti esterne che vanno ad accentuare il problema. Uno degli imputati è un piccolo parassite, un acaro, che normalmente risiede nelle ghiandole sebacee, ma che nell'acne rosacea è presente in quantità maggiore, mentre la dermatite periorale è tipica delle donne e può essere dovuta a un uso prolungato di creme cortisoniche, a un uso prolungato di dentifrici o collutori al fluoro o di certi tipi di cosmetici o di fragranze. La rosacea tendenzialmente ovviamente si manifesta a livello di cute, però può avere anche un legame con delle problematiche a livello di apparato digerente, quindi è facile che in chi ha rosacea ci siano anche delle manifestazioni nel tratto digerente, come può essere una gastrite o comunque disturbi dell'intestino e anche una componente psicologica dietro, quindi dovremo tener conto che magari è il caso di riequilibrare un po' tutto l'assetto. Per quanto riguarda la parte dell'igiene e della cosmesi, dovremo sicuramente andare a calmare questa pelle sensibile e reattiva, quindi utilizzeremo dei latti detergenti, delle acque micellare o delle mousse detergenti comunque delicati che non contengono tensiattivi troppo aggressivi, che vadano a sgrassare troppo la pelle. Preferiremo sempre un tonico analcolico, magari andate a ricercare delle componenti limitive calmanti come possono essere la camomella o la mamelis. Non utilizzeremo creme untuose, creme pesanti, ma utilizzeremo delle creme, dei sieri, dei gel leggeri, più acquosi, per idratare senza andare a caricare con sostanze nutrienti e quindi sicuramente eviteremo tutto quello che sono siliconi e petrolati che non farebbero altro che peggiorare la situazione. Magari potremmo utilizzare di giorno anche una crema con delle componenti lenitive, quindi avena, camomilla, mamelis, tiglio, ribes nero, eccetera, e la sera, se siamo particolarmente arrossati, infiammati, andare ad applicare la solita pasta per il cambio del pannolino dei bebè contenente ossido di zinco, sempre senza petrolati, di cui vi ho già parlato nei casi di acne. Il sole questa volta è nemico di questa pelle, quindi ci dovremo esporre poco e quando lo facciamo ci dovremo proteggere molto bene, però sempre non utilizzando prodotti untuosi, quindi comunque scegliendo delle protezioni più leggere nella loro formula. E la sera, se la pelle comunque risulterà insultata e irritata dal sole, andremo di nuovo di pasta per il bebè. Quando abbiamo particolari irritazioni, rossori, infiammazioni, possiamo anche ricorrere a impacchi fatti con infusi di camomilla o malva, ovviamente lasciati intiepilire, e applicati per 15-20 minuti la sera per proprio un'azione decongestionante. L'alimentazione si baserà sicuramente su frutta e verdura fresca di stagione in abbondanza, si baserà sul limitare il più possibile alcolici, superalcolici, ma anche tutto quello che può essere irritante, come caffè, tè bollenti, le spezie, e però senza neanche cedere, cioè senza fare, per esempio, una dieta in bianco, che si è visto non apportare alcun beneficio. Quello che possiamo fare è agire anche un po' sulla componente emotiva e psicologica, quindi utilizzare delle piante che aiutino a rilassarsi, delle piante adattogene, quindi magari alcun biancospino, un'eleteanina, che è il principio rilassante del tè verde, di cui vi ho parlato nei video specifici del tè, o il tè, o la melissa, la vitania, ecco, ce ne sono tante e eventualmente si può approfondire insieme secondo delle esigenze individuali. Poi vitamina A, vitamina E sicuramente, e metilsulfonimetano, quindi questo zolfo organico in grado di fare un'azione altamente antinfiammatoria e per ripristinare l'equilibrio della flora batterica, che deve essere in equilibrio anche sulla nostra pelle, o dei cicli di un paio di mesi di probiotici, sono assolutamente consigliabili. Vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo martedì con un nuovo appuntamento con il tè. Grazie a tutti!